good morning si qui diciamo sono le nove e qui sono di report più presto e faccia tutta la mia storia e quindi in questo caso posso dire che una mattina prestissimo mister master maestro o semplicemente semplicemente david david lynch it's june 6 2022 and it's monday in naples middle morning in this moment very still right now eighty four and two fahrenheit around 29 celsius this means that it's that day really 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 soft like in this 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 period that holds over because it seems more a summer climate the spring limit altra parte stiamo andando verso l'estate non è manca poco e questo anche normale as a riguarda il video tos e donna il fall do it but fall do it in case is always seguita frontis su eyes open if you're interesting anyway as you and you'll just see from the window you can't see anything because ripeto in these days in quasi tutta l'estate noi quasi tutta l'estate apriamo già mettiamo in mossa la grill roller shoot al posto della tenda principalmente per far passare l'aria quindi questo il motivo ma forse come sto ripetendo sempre in questi giorni potreste vedere qualcosa in più attraverso i filtri e gli occhiali da sole su as you can see from the sunglasses anche se non lo so in realtà si vede ah yes i think that itself of the new temperature potrebbe ancora salire ma adesso è stata così è difficile che non salga but really important thing with this atmosphere is that today we are going to be enjoying those beautiful 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 those skies and golden sunshine i think all along the way ovviamente lo sapete all along the way qui si intende qualche ora meno rispetto soprattutto gli amici americani perché abbiamo un completamente diverso comunque bene così i gran trend iniziato di giugno siamo continuate così praticamente così per tutto il mese come è stato un po con maggio solo per pochissimi giorni abbiamo avuto lo spirito blue skies and golden sunshine continuiamo così anche domani per cui letta si usciamo così so come si lo sono chiuscite come quello che cuno sono i veri come se gli одержato con el certainty sssssaate consiste che non se lo schiacro pensiamo questo i veri sono un belchio proitty e i cisti ma sono un belchio progno di giugno via roggno. IPG 625 Evo, great day Immoldo people Un saluto a tutti Io la farò tra poco Ma soprattutto spero possiate consolarvi Se il tempo deve essere brutto Non che, come ripeto sempre Non ci consideriamo sempre Non facciamo colazione Anzi, tra l'altro Curiosità è anche le due parole Consolazione e colazione Se dette in italiano fanno anche rima Ma io personalmente Nel tempo è brutto Mi consolo ancora di più I'll see you Nel video to see If I do it Or tomorrow